Siamo a Umbertide per presentare un progetto che interessa questo territorio, che è uno dei punti, degli snodi della rete pubblica regionale, della RAN. L'avanzamento dell'intervento che interessa la nostra regione, che ovviamente è finalizzato a integrare le infrastrutture telecomunicazioni che sono già presenti da parte degli operatori, non si pone l'obiettivo di sostituire ma di integrare la presenza degli operatori sul nostro territorio. L'obiettivo di questa rete di nuova generazione in fibre ottiche a banda larga e larghissima per portare i 100 mega sul nostro territorio è quello di connettere progressivamente il sistema pubblico allargato e di offrire infrastrutture abilitanti agli operatori. Alcune infrastrutture sono già realizzate e collaudate, come il Beckomo lungo la ferrovia centrale Umbra, le rete cittadine di Città di Castello, Orvieto e Terni, altre rete cittadine a Foligno e a Perugia sono a vario grado di avanzamento. Ci sono poi infrastrutture, la dorsale est, appunto da Umbertide, che passerà per Gubbio, Gualdo, Foligno, Spoleto e chiuderà su Acqua Sparta, il collegamento Perugio-Foligno e poi il relegamento progressivo comunque di tutte le città sopra i 15 inabitanti e delle altre città che sono lungo, le dorsali che via via vengono realizzate. A Umbertide insisterà una rete di 6 km circa, che è il frutto di infrastrutture già fatte, una tratta del Beckomo, di un'infrastruttura in via di realizzazione che è la dorsale est, che parte appunto da Umbertide e dell'investimento che riguarda Umbertide, Marciano e Todi nelle città sopra i 15 abitanti lungo il Beckomo. Questa rete cittadina, come le altre reti MAM, collega il sistema pubblico, i servizi sanitari, il mondo scolastico, dove questo è possibile, e le aree industriali. Ovviamente intorno a questa infrastruttura devono crescere servizi e deve crescere anche una cultura dell'utilizzo della rete, dello stare su internet in maniera dinamica. Questo riguarda l'innovazione del mondo pubblico, riguarda anche l'innovazione del sistema produttivo, per le imprese è importante, per il commercio elettronico, per fidelizzare i clienti, per usare social network, per acquisire nuovi mercati, oltre che ovviamente per innovare i propri modelli, i propri sistemi produttivi, è importante usare la rete. E questo non riguarda solo le imprese del settore ICT, questo riguarda l'intero mondo produttivo. Ormai competono le imprese che stanno dinamicamente sulla rete.